Finisce l'era del noleggio. Entro la fine dell'anno l'ospedale di Chieti avrà la PET-TAC di proprietà. Ad aprile scadrà il noleggio, ma ci si avvia verso la proroga, almeno fino a che la nuova apparecchiatura non sarà operativa. La PET-TAC sarà sistemata nel locale che ospita attualmente la gamma camera, rotta e non più riparabile. Uno spazio da ampliare, ma sarà la stessa ditta che vincerà l'appalto europeo ad occuparsene. L'investimento è di 3 milioni e mezzo di euro. L'ufficializzazione è arrivata oggi durante la visita dell'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì all'ospedale di Chieti. Un grande passo avanti perché la nostra regione ha già acquistato tre PET-TAC nelle diverse aziende ALS. Questa è la quarta che acquisterà ed è importante perché, come voi tutti sapete, i nostri pazienti erano costretti ad eseguire una PET-TAC dentro un camion all'esterno. Qualcosa di indecente e quindi è stato un impegno di questa regione, questi notevoli investimenti che abbiamo messo in atto che oggi va a focalizzarsi presso la ALS 02. Acquistiamo una PET con una gara che farà adesso la ALS. Abbiamo messo a disposizione i fondi. Queste apparecchiature saranno apparecchiature di un'alta qualità, di un'alta garanzia. Servirà soprattutto anche per abbattere le liste d'attesa perché l'esecuzione poi di quella che è una prestazione viene ridotta come tempo. Quindi un grande applauso innanzitutto al lavoro che l'azienda sta portando avanti, ai medici, ai vari primari, ai capi di partimento perché è un risultato veramente notevole che si aspettava da più di 20 anni. Soprattutto per i pazienti sarà un grandissimo passo in avanti. Non ci sarà più un paziente che nel caso in cui una delle quattro PET si rompa resta senza aver fatto l'esame perché partirà subito un meccanismo per cui quel paziente verrà rimodulato verso la città che avrà la PET in quel momento funzionante. Questo credo, oltre a tutti i vantaggi che ha spiegato l'assessore, ci porterà veramente in alto nella competizione con le altre regioni e vedrà che saremo attrattivi con le altre regioni e perderemo quella mobilità extra-regionale che fino adesso in questa ASD per la medicina nucleare è fortemente penalizzante. E dal reparto di medicina nucleare la visita dell'assessore Veri è proseguita anche in ostetricia e ginecologia. In particolare oggi si è sottolineata l'importanza della medicina prenatale. C'è un aspetto importante che è stato sottolineato in questa visita anche nel reparto di ostetricia e ginecologia che riguarda non solo la donna, è oggi l'8 marzo, quindi è anche il giorno giusto per aiutare le donne a vivere serenamente la gravidanza anche curando i propri bambini e il feto. Sì, c'è la possibilità ad oggi, che sono cose ovviamente molto recenti, di curare il bambino all'interno della pancia della mamma. Molti bambini non riescono a nascere perché hanno problematiche che non gli permettono appunto di sopravvivere all'interno della pancia della mamma e ad oggi con l'introduzione della terapia inutile, della chirurgia fetale è possibile per alcuni di questi arrivare alla nascita e avere una vita normale ovviamente dopo trattamento. Ci sono tante richieste e sembra anche trapelata oggi l'idea di un ampliamento. Sì, perché abbiamo tante richieste soprattutto da fuori regione e c'è questa relazione tra noi e la pediatria ovviamente senza la pediatria non potremmo far nulla, non potremmo accogliere tutte queste mamme a rischio grazie a questa sinergia c'è la possibilità di fare sempre del bene a queste mamme e a questi bambini. Lei ha passato dieci anni all'estero, svolgendo il suo mestiere, ha deciso di tornare in Abruzzo, perché? Perché ho sempre deciso di ritornare in Italia per far qui ciò che ho preso fuori, sono stato fortunatamente dei migliori esperti al mondo in questo campo e ho sempre deciso, non ho mai avuto un ripensamento, è sempre stata la mia idea sin dall'inizio.